Grazie signor Presidente, onorevoli colleghi, 100 miliardi. Come cadono velocemente tante bugie dette sull'economia in quest'aula, in tutti i talk show. La spesa pubblica, il male assoluto, il fardello per le prossime generazioni. Ma quante volte l'abbiamo sentita sta storia qua? Quante volte, quando si diceva che bisognava fare politiche espansive, pazzi, la spesa pubblica, la spesa pubblica non va bene, il debito non va bene, fardello delle prossime generazioni, 100 miliardi. Ma se 100 miliardi sono serviti e sono stati necessari, e io dico che sono pochi, e tanto ne arriveranno già altri 40 con la legge di bilancio, ma sono serviti per evitare disastri dal punto di vista economico, per sostenere l'economia, per aiutare persone che altrimenti sarebbero state senza lavoro. Ma non viene sospetto a qualcuno che la stessa cosa sarebbe stata in passato per sostenere esattamente questi problemi che hanno afflitto tante persone, per sostenere l'economia, per sostenere le fabbriche che chiudevano, per sostenere i negozi che chiudevano. Ormai stiamo vedendo alcuni economisti, c'è stata, ho visto su Huffington Post ieri, un grosso articolo dedicato per una pagina da un economista che arrivava come Alice nel Paese delle Meraviglie, a dire che abbiamo vissuto sotto le nostre possibilità. E io ero rimasto ancora che eravamo vissuti sopra le nostre possibilità. No, invece siamo vissuti sotto le nostre possibilità, perché? Perché i parametri, quelli dell'austerità, quelli europei, questo mondo bellissimo dell'Unione Europea, che fino adesso ci avete sempre descritto come il migliore dei mondi possibili, invece danneggiavano la nostra economia. Perché forse bisognava spendere un po' di più, perché forse bisognava tagliare le più tasse, forse bisognava lasciare più denaro nelle tasche dei cittadini. No, invece sempre prelevare a botta di avanzi primari. E ma guardate che il disoccupato di cinque anni fa, il fallito di cinque anni fa, non è troppo diverso dal disoccupato di oggi, eh? Perché uno si accorge che ci sono i disoccupati adesso che c'è l'emergenza, ma c'era anche prima. Questo è un Paese che non cresce da vent'anni. però com'è la competenza con cui questo governo ha affrontato questa situazione? Beh, basta guardarsi gli articoli di giornale del primo marzo, quando si è deciso di chiudere tutto. Arriva il competentissimo nostro ministro dell'economia e dice spenderemo 3,6 miliardi per affrontare la crisi e l'Unione Europea ci darà via libera, come per dire, sono qua io, non vi preoccupate, mica come quegli altri. Adesso sono qua io e vedrete che spenderemo i 3,6 miliardi che ci servono. Ecco, uno che non aveva così incredibilmente, così magnificamente capito nulla dell'entità del disastro economico, perché pensava di risolvere la crisi con 3,6 miliardi, è ancora lì. Io compiango il sottosegretario Guerra che sicuramente lo guarda e dice ma perché io devo ascoltare questo ignorante? Perché è un ignorante! Mi spiace, mi spiace dirlo perché io vorrei per il mio Paese il meglio, ma uno che pensava di affrontare un lockdown, quindi una chiusura di tutte le attività produttive con 3,6 miliardi, perché? Perché aveva il terrore di sforare il 3% e quindi era solo quel 3,6 miliardi che si poteva fare. Fortunatamente per lui è arrivata la Francia e hanno detto forse abbiamo bisogno anche noi e quindi ecco che non grazie certo a lui ma è saltato il patto di stabilità e crescita. Ma questi 100 miliardi e questi 140 se consideriamo anche quelli della prossima legge di bilancio, da dove vengono? Da dove vengono? No perché qua, così sistemiamo le prossime balle che ci apprestiamo a sentire, prima fra tutti i domani. Da dove vengono questi 140 miliardi? Vengono dalle tasse? Vengono dai nanetti sotto, che fa in Italia? Vengono dal taglio dei parlamentari? Vengono dal taglio degli stipendi? No signori, ce l'ha spiegato, ce l'ha spiegato, lo si sapeva, ma ce l'ha ricordato oggi, stamattina in audizione Banca d'Italia, da dove vengono questi 140 miliardi, quando a precisa domanda, perché c'è ancora qualcuno che fa finta di non capire, la Banca d'Italia stamattina in audizione, in commissioni bilancio riunite, ha ricordato che la Banca centrale crea denaro dal nulla e ha creato i soldi con cui sono stati acquistati i titoli di debito emessi dalle nazioni europee, tutti, tutti, perché poi è passato l'ufficio parlamentare di bilancio e ha ricordato che tutte le emissioni aggiuntive rispetto al fabbisogno normale sono state acquistate e coperte dal programma d'acquisto della Banca centrale. C'è bisogno del MES, c'è bisogno del recovery fund, che ci porterà che cosa? Dei soldi, qualche spicciolo forse l'anno prossimo, se ci sarà la benevolenza dell'olandese, se li spenderemo come vorranno loro e se li restituiremo come vorranno loro. Quando qui si sono trovati 140 miliardi? Ma signori, 140 miliardi, perché abbiamo quell'incompetente di cui sopra di Gualtieri, se fossero stati 200, erano 200, non è che non si trovavano. Se fossero stati 250, erano 250, perché la Banca centrale sta comprando tutto. Cos'è il costo in interessi di questi titoli? Ce l'ha raccontato ancora la Banca d'Italia, ve lo dico io per chi ancora non ha capito e parlo anche degli alleati, quanto è il costo per interessi dell'indebitamento normale, quindi non quello del MES. Zero! Zero perché i titoli comprati dalla Banca d'Italia, per conto della Banca centrale europea, sono depositati in Banca d'Italia e gli interessi vengono restituiti al tesoro. Quindi questi 140 miliardi ci sono costati e ci costeranno zero in termini di interesse, zero in termini di condizioni. E noi abbiamo raccontato ancora e continueremo a raccontare le balle sulla pioggia di milioni del recovery fund che ci salverà con quello. Ma se noi dobbiamo veramente aspettare il recovery fund per trovare qualche miliardo da spendere per chissà che cosa o peggio ancora al MES. Ma da dove arrivano questi 140 miliardi? Ma svegliamoci! Ma siamo qui davanti ai cittadini, piantiamola di raccontargli delle balle. Sono tutte finzioni fatte per tenere insieme una struttura di continuo ricatto costante da parte dell'Unione Europea col patto di stabilità che impedisce agli stati che non gli stanno simpatici di fare spese in termini normali. Adesso che sono tutti nei guai saltano le regole e quindi a lei si spende. In futuro quando le cose saranno tranquillizzate in casa della Germania o in casa della Francia vedete che le regole torneranno e torneranno esattamente tutte le balle di prima. Giusto per capire perché sarebbe stato opportuno che invece di 140 miliardi magari ne avessero fatti i 180 o 200? Eh scusate, chi di voi parlando con imprenditori o parlando con piccoli artigiani e commercianti, quelli che hanno preso i prestiti garantiti dallo Stato col decreto di liquidità, non sa o non ha sentito che questi stanno per fallire e che non restituiranno quei prestiti. Chi di voi non ha, perché allora significa che veramente non sapete, non avete idea di cosa può essere il lavoro di un parlamentare se state chiusi in casa per paura del Covid? Ecco, anche se c'è il Covid, provate a uscire e provate a sentire qualche imprenditore, qualche artigiano cosa vi dice. Vi dice, guardate, mi offrivano i 30 mila euro con garanzia al 100% dello Stato, li ho presi tutti perché speravo che le cose finissero in breve tempo, invece non stanno finendo in breve tempo e io continuo a non incassare. Non solo, più arriveranno future chiusure, perché vedo già delle cose drammatiche dipingersi nei prossimi futuri di PCM e meno incasseranno queste persone. Quindi loro hanno preso a prestito dei soldi sperando di... Il governo invece di dare il fondo perduto gli ha indebitati, con questo debito non arriva e non arriva la ripresa. Ma cosa farà mai un imprenditore che si trova senza una ripresa dei suoi conti e con un debito maggiore sulle spalle? Ma ovviamente tirerà giù la saracinesca, chiuderà, licenzierà i suoi poveri dipendenti, dirà sentite io ci ho provato fino allo stremo delle possibilità che può avere un imprenditore. Ma purtroppo non ce la faccio più. Chiude e questo debito che ha preso con lo Stato, secondo voi chi lo ripagherà? Lo Stato nel momento stesso in cui lui dichiarerà fallimento, quindi il prossimo governo. E quindi quel deficit arriverà dopo. Se adesso questo governo vorresse veramente fare una cosa intelligente, prenda tutti questi questi crediti che ha dato a queste persone di fronte al locale e li converta in fondo perduto. Almeno si prenderà la responsabilità di quel deficit e non lascerà delle eredità per il futuro eviteremo un po' di chiusure. Concludo, concludo. Io ho sentito tanti che si lagnano per il fatto che questo Parlamento, questa Camera non ha potuto toccare questo provvedimento e quindi la Camera è esautorata. Guardate, sì sto concludendo Presidente, mi perdoni. No, no, non avevo sentito l'interazione. No, 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 sto concludendo. Guardate che questo Parlamento potrebbe ancora riprendersi la sua dignità, eh? Cioè non è che deve subire tutto e continuare a lamentarsi. C'è un modo molto semplice per evitare questi scempi, per evitare questo monocameralismo alternato, per evitare che ci siano qua provvedimenti di questa rilevanza e di questa importanza senza che nessuno di voi abbia potuto intervenire. Sfiduciare il Parlamento, sfiduciare il Governo. Sfiduciare il Governo. Questo Parlamento può fare questo, può sfiduciare il Governo e vedrete che probabilmente cambieranno le cose, cambierà l'atteggiamento del Governo rispetto a quest'Aula.